Stiamo per iniziare la celebrazione con tutti gli italiani qui nel santuario della Divina Misericordia e siamo ormai alla vigilia dell'arrivo del Papa, anzi il Papa arriva stasera e noi lo vedremo soltanto domani e questa è la festa degli italiani. Sono giorni molto intensi, anche faticosi per i nostri giovani che però sono stati splendidamente accolti e danno a vedere una gioia, anche un entusiasmo che secondo me è l'antidoto alle tristezze delle notizie che provengono dal resto d'Europa. Arrivederci.